Cosa succedeva? Cyberbullismo. Una mia amica era stata insultata su WhatsApp da un gruppo di ragazze. Si credevano più forti. Esperienze che a poco più di dieci anni segnerebbero chiunque, che nel pieno dello sviluppo lasciano tracce indelebili e che a volte diventano irreversibili. Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sulla morte di una 14enne padovana trovata priva di vita per un overdose di insulina. Il sospetto drammatico è che la ragazzina fosse vittima di bullismo, un fenomeno che non conosce tregua. Le persone con meno amici venivano un po' esclusa. Magari perché uno è un po' più, con un colore della pelle un po' diverso, roba del genere. Situazioni davanti alle quali raccontano giovani e giovanissimi se ne esce solo attraverso il coinvolgimento degli adulti che hanno gli strumenti per intervenire e ridimensionare i bulli. Denunciare subito, non avere paura degli altri, essere più forti, perché in realtà loro sono più deboli. A volte anche che poi degenerano, ma non ho mai visto atti di bullismo che poi diventano violenza, però prese in giro, insulti, sì. Ciò che è certo è che se i bulli possono essere perdonati, il bullismo non perdona. L'unica possibilità è un intervento esterno, qualcuno che spezzi quella catena e quell'isolamento in cui chi rimane a guardare assume comunque il ruolo di complice. Bisogna sempre aiutarsi e raccontare agli adulti e anche agli amici magari. Per me dovresti difenderlo, poi puoi fare quello che vuoi, però sai che se stai lì a guardare sei anche tu uno che bullizza. Grazie a tutti.